ciao ragazze io sono michela bentornata nel mio canale di youtube pensieri fatti a mano allora ho un po di cosine da farvi vedere di progetti finiti uno iniziato che avete visto avevamo fatto l'apertura del pacco insieme se vi ricordate avevate visto i gomitoli ho iniziato il progetto con quei meravigliosi gomitoli che io adoro elmo e ridem ora vi faccio vedere e una chicca una chicca della boutique di ioana perché lei non ha queto tutte le cose le trova tutte le cose un po particolari allora tanto piacere di trovarvi se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale pensieri fatti a mano mi trovate anche su facebook sempre come pensieri fatti a mano e cliccate il iscriviti e la campanellina così ogni video che faccio vi arriva la notifica e siete sempre aggiornate allora da dove parto da dove parto parto da questi qua parto dal mohair ridem perché è una meraviglia allora vi ricordate avevamo aperto il pacco insieme io lo avevo già usato questo filato si può usare da solo si può usare con un altro filato quindi abbinato vi do anche allora adesso queste targhette qua io ogni volta cecata nonostante gli occhiali e no vi vorrei far notare cecata ma i trabiccoli e non ci vedo comunque ho messo i multifocali ora faccio un po di chiacchiere allora perdo da la vista da lontano la perdo da vicino per ovvi motivi perché non sono più una ragazzina e quindi era un continuo metti e togli metti quelli da vicino metti quelli da lontano quando vai al supermercato a comprare chi ha gli occhiali lo sa se non vede né da lontano né da vicino diventa un problema perché è un continuo metti e togli metti e togli metti e togli poi cosa facevo occhiali sopra la testa gli altri messi e alla fine se le stecche si rovinano quindi decido passo ai multifocali mi sembrava la soluzione ideale devo dire mi sono abituata subito però non riesco ancora a capire la mezza misura perché i multifocali hanno lontano il vicino e la mezza misura non la mezza distanza ecco quella ancora stiamo ancora litigando quindi in realtà la mezza distanza ancora non ho ben capito come funziona imparerò anzi se qualcuno c'è la mezza consigli sono ben accetti quindi vediamo di trovare le indicazioni mohair ridem sono gomitolini da 25 grammi questo è il robotic come colore ma in questi 25 grammi voi non ci crederete ma ci sono 200 metri avete presente 25 grammi 200 metri una resa che io in pochi gomitoli devo dire la verità perché 25 grammi 200 metri veramente tanto questo è mohair adesso guardavo eccolo qua perché abbiamo sempre sciplie fa sempre queste robine vedete è molto fine però si può lavorare da solo vengono ora vi faccio vedere io l'ho lavorato da solo cos'è venuto fuori oppure si può abbinare all'alpaca ridem quindi stessa identica marca stessi identici colori quindi volendo uno trova proprio il gemello oppure con un altro filato completamente diverso quindi fare un po di abbinamenti che io ho fatto e vi faccio vedere quindi con questo qua io avevo appunto ordinato questi gomitoli mi ispirava proprio l'idea di farlo solo ed esclusivamente in mohair e guardate cos'è uscito fuori no io sono sapevo che era un bel filato guardate qua questa è una sciarpa vedete con un punto in rilievo quindi da questo effetto tridimensionale e io l'ho fatta perché la volevo proprio colorata con queste tonalità ora finito questo perché è praticamente finita finito questo colore riattacco con il primo cioè la finisco l'inizio e la fine saranno fatti con il robotic guardate un po ragazze ma è bella è una pallina sofficissima non punge non punge niente soprattutto non perde il pelo perché sfatiamo questo mito il mohair se è serio se è un filato pregiato e valido non spelucca quindi quando spelucca è perché sono insomma no ecco un po fatti così questo non spelucca guardate che allora il punto è un punto molto semplice volevo proprio una sciarpa un po particolare colorata allegra questa qua va benissimo tra l'altro essendo di mohair ed essendo così fine no ma guardate le gradazioni proprio belle si può usare anche nell'estate e nelle serate estive insomma una rubina da buttare sopra si può giocare con i colori perché il mohair ridem come l'alpaca ridem hanno un'infinita varietà di tonalità e di colori abbinabili tra di loro usati singolarmente potete veramente giocare con i colori che secondo me quando andate a vederli non riuscite a scegliere io ho fatto fatica devo dire e poi ricordatevi sempre che se siete in difficoltà sulla scelta dei colori chiedete ad oana lei è bravissima ad abbinarli quindi fatevi consigliare anche da lei se avete un po di dubbi non sapete bene cosa mettere insieme ricordatevelo mohair ridem esiste c'è anche l'alpaca ridem da abbinare vengono delle cose strepitose poi questo a ecco vi volevo far vedere questo a proposito non l'ho ancora iniziato perché chiaramente sto finendo quello ho finito altri due progetti quindi questo è rimasto indietro ma nel pacco se vi ricordate io avevo preso sempre mohair ridem di questa tonalità che è un bellissimo verde acqua non so se riuscite a vederlo e l'ho abbinato con il vullinen stessa tonalità verde acqua vedete quindi ad esempio in questo caso io ho abbinato un mohair ridem con un vullinen quindi anche qua farò una stola perché secondo me fate i ferri questa la farò sicuramente i ferri troverò adesso mi metterò a cercare un po di punti ma guardate che cos'è questo abbinamento ecco giusto per dirvi che si può abbinare sì con l'alpaca che è il suo gemello ma si può anche giocare con altri filati questo qua è lino allora ne avevamo già parlato è di questo vi rinfresco la memoria a questo qui lo dà a proposito il mohair non vi ho detto il ferro lo dà da lavorare con il ferro con il 2 vi dico però sinceramente che questa qui che ho fatto l'ho fatta con il 3 ed ho usato solo il mohair ridem questo è proprio da solo l'ho lavorata con il 3 perché perché se volete un lavoro vaporoso soffice e morbido va usato un uncinetto più grande anche se questo è un filato che consigliano con il 2 ma con il 3 guardate che cos'è viene proprio una nuvoletta quindi io l'ho lavorato con il 3 poi fate le vostre prove perché non tutti abbiamo la stessa mano questo qui invece che sarà abbinato devo ancora fare un po' di campioncini sarà fatta i ferri e quindi poi deciderò vi dirò la prossima volta nel prossimo video che sicuramente avrò avviato questo progetto avrò deciso cosa farci vi dirò con l'abbinamento di questi due filati che tipo di ferro uso però io lo dico la nausea provatelo prima fate dei campioncini perché vedete che anche io mi metto di sferruzzo faccio un quadrettino non è che bisogna fare grandi cose poi ho scoperto l'ho trovato un'idea carina perché non è che si fanno i campioncini e poi si disfano no si fanno i quadratini e poi si tengono questi quadratini potrebbe essere anche un'idea poi metterli insieme fare una coperta patchwork fantasia con tipi di filati diversi abbinando i colori è un'idea carina in modo che si utilizzano anche praticamente i campioncini perché bisogna riciclare perché come che dice greta thunberg le stiamo rovinando la vita quindi a parte gli scherzi avere dei filati avere dei quadrettini che di solito si fa 20 per 20 quindi sono dei quadrati perché sprecarli ci si possono fare delle bellissime coperte no tra l'altro un'idea originale perché magari ecco giusto filati di mohair lana pelosi non pelosi secondo me viene un bel lavoretto poi cosa vi faccio vedere una cosa che vi ho già fatto vedere in un'altra versione che io adoro e continuo a innamorarmi ogni volta che lo vedo tra l'altro sono arrivate delle nuove colorazioni delle nuove tinte che io non credo che resisterò a lungo il kit giardino di fiori io sono innamorata di questo scialle per due motivi il primo perché ho le due versioni invernali estiva quella invernale l'avevate vista l'avevo fatta con lo stardust era venuto uno spettacolo sui toni del verde era una meraviglia ora l'ho rifatta in versione estiva quindi di cotone con le cake le whirl e la whirlette mi piace per due motivi il primo è perché c'è veramente una varietà di tinte di colori che viene voglia di farlo cioè uno non si fermerebbe mai perché sono talmente belli tra l'altro ne ho visto uno che ho anna pubblicato da poco che non credo che resisterò perché quella whirl è una cosa comunque io ho fatto questo qui e l'ho fatto con la whirl e la whirlette colora marena adesso ditemi voi l'avete visto perché l'ho pubblicato ditemi voi ditemi voi che cos'è questa cosa cioè poi a volte dico magari sono io che sono esagerata no però cioè ragazze ma io mi innamoro ogni volta di queste sfumature di questi colori io rimango ogni volta mentre lì lavoro proprio ma voglio dire ma può essere poco bello questa fa questo chalet qua cioè come si fa non fa a parte che non so chi di voi l'ha fatto mi dia un feedback è di una semplicità velocissimo cammina perché molto veloce e poi ognuno viene diverso nel senso che non è uno schema classico no che uno segue lo schema quindi sono come quelli di fabbrica no che escono quei modelli tutti uguali questo qui ci sono diversi punti ma ognuna di noi ma io stessa io stessa facendolo cambio vario la disposizione dei punti posso fare più punti freccia posso farne meno più conchiglio meno i fiori questi qua con i puff ad esempio nel giardino di fiori che avevo fatto nella versione invernale avevo fatto solo questa banda qua qui invece l'ho finito con il punto paffa fiori quindi ogni scialle di questo kit a seconda di come vi piace di come vi viene in quel momento viene diverso quindi è per quello che io sono innamorata di questo modello e poi è bello ragazze cioè proprio guardatelo io ogni volta che lo vedo mi innamoro poi questo qui amaranto allora vi spiego una cosa o anna lo sa già io non amo particolarmente le tinte colorate molto accese perché rischio una crisi epilettica ogni volta no ma ognuna di noi ha i suoi le sue tonalità preferite io tendo più alle tinte neutre quindi panna e beige i i verdi le tinte un po più soft devo dire che a calci nel sedere oana mi ha spronato a provare le tinte un po più accese quindi in questo caso ad esempio questa dello scialle piuttosto che l'altra di mohair e ora non mi vedrete mai con dei rossolacca ecco quelli non fanno proprio per me però devo dire che ho scoperto che mi piacciono anche questi ora è chiaro non andrò mai appunto su colori tipo rossolacca ma è una scelta personale il gusto è gusto ma mi hanno mi hanno un po diciamo smosso dalle mie tinte con calma qui il merito devo dire tutto di oana è perché non avrei mai pensato di ora io li uso li uso per le mie clienti perché è chiaro ma per me proprio non li amo invece devo dire che li ho riscoperti e è stato questo qui ragazze ma io ma come faccio a dirvelo cioè guardatelo guardatelo parla da solo non ha bisogno di commenti questo kit allora andate a vedere perché sono kit già pronti wirle e wirlette insieme quindi ci vuole una wirle e una wirlette per questo modello qua sceglietevi la tonalità ce n'è di splendide ne ho visto una adesso che ha messo non so se ieri o stamattina che io credo che resisterò poco quindi sono arrivati anche dei nuovi colori questa è in cotone di prego andateli a vedere e provate poi scusate oana lei va spulcia gira e trova un modello di scialle lo avete sicuramente visto perché ne ha parlato ultimamente nel suo podcast è lo scialle arcobaleno interrotto allora potevo non farlo allora uno è uno scialle quindi già con me ha vinto perché io adoro gli scialli quindi due uno scialle di una forma particolarissima che io non avevo mai usato tra l'altro infilati sono garanzia quindi volevamo non farlo e infatti e infatti ora ve lo faccio proprio vedere allora aspettate che vi cerco ecco il libretto è finito mi mancano solo le nappine che ora deciderò perché stavo cercando di capire come farle allora guardate un po' arcobaleno interrotto perché ha questi intermezzi vedete che arrivano fino a un certo punto e poi si fermano e ha questa forma a mezza luna che è veramente particolare allora non pensate che sia una cosa terribile perché è veramente semplicissimo da fare sono tutte maglie alte mezze maglie basse scusate mezze maglie alte quindi semplice devo dire che io l'ho fatto in tre giorni in tre giorni l'ho finito è semplicissimo è un lavoro che cammina molto molto veloce a me piace ma ecco qua io e questa è la mia tinta adesso ne proverò un altro perché c'è con lo stesso filato che ora vi dico qual è questo questa versione invernale c'è una tinta che io adoro quindi farò anche quello comunque cosa ne pensate bello poi con queste cose queste linee che si fermano vedete un po più lunghe un po più corte è molto molto particolare allora per questo qui ho usato ci sono i kit kit shall interrotto anche lì andate scegliete la versione estiva la versione invernale io ho preso la versione invernale con l'hour tribe di shippie questo è il grigio abbinato sempre con l'hour tribe questo qua quindi le righe colorate io le ho fatte con questa tonalità qui e mi piace molto perché abbastanza neutro come colore sapete che appunto vi ho detto che io adoro i colori neutri quindi allora shippie che è sempre lui che fa delle cose galattiche allora hour tribe 100 grammi 420 metri andate a vedere c'è anche la versione questo è il grigio poi c'è il panna se non o il beige se non sbaglio con abbinato sempre una tinta da da lavorare per fare le righe appunto dell'arcobaleno chiamiamole così poi c'è la versione estiva in cotone con il sun kissed ecco lì si può giocare con i colori cioè scegliere una base chiara e poi colori diversi ogni riga di un colore devo dire che mi ha dato veramente tanta soddisfazione questo qui è proprio bellino originale un po diverso dalle solite cose che si vedono in giro è molto semplice non resisto parte che sembra è molto carino e ragazze guardate io poi li adoro messi gli scialli non so perché gli scialli si chiamano scialli perché mi sono sulle spalle io li adoro messi così e più sono abbondanti e più mi più guardate che cos'è è vero mi piace proprio adesso poi farò le nappine perché mancano le nappine che devo decidere ecco perché loro chiaro che nel kit quando ordinati kit che sia questo che sia giardino di fiori e vi arrivano insieme le istruzioni e i video se ci sono i video è quindi vi arriva tutto insieme ora loro nelle istruzioni le nappine le fanno con il colore di base che nel mio caso è questo legate con questo qui ora io sono indecisa devo dire la verità proverò a farne come dicono loro e come dico io quindi fare le nappine di questo colore legate poi con questo perché secondo me le danno un po di ma guardate che bello no adesso finisco le nappine ragazze perché io me lo devo mettere questo qui mi piace troppissimo troppissimo cosa ne pensate voi bello 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 farò anche l'altro sicuramente quindi deciderò le nappine come farle poi vi aggiorno anzi facciamo una cosa magari le preparo nelle due versioni poi metto la foto così magari mi aiutate a scegliere vediamo andiamo a maggioranza chi vince a chi piace più quella base o l'altra più colorata secondo me secondo me questa qui sta bene gli dà una nota di colore vabbè vediamo 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 allora vi ho detto tutto vi ho fatto vedere questi progettini praticamente tutti finiti andatevele a vedere il vulline nel moer ridem i due kit giardino di fiori e scialle arcobaleno interrotto i filati non serve che ve lo dico perché ormai tanti di voi sono già clienti di oana quindi sanno di cosa parlo tante l'avete scoperta e mi avete detto che vi siete trovati benissimo ma io non avevo alcun dubbio a riguardo quindi se non l'avete ancora fatto andate andate a curiosare a proposito a proprio mi dimenticavo la settimana scorsa ero sapete no forse non tutti lo sanno io vengo abito in liguria a santa margherita ligure ma le mie origini non sono liguri io sono della provincia di massacarrara e per la precisione zeri si chiama il posto da cui vengo zeri provincia di massacarrara un posto che io è il mio cuore lì no io poi ho tutti i miei parenti i miei genitori vivono lassù quindi la settimana scorsa ero a zeri ero in ferie ho preso una settimana di ferie sono andata a zeri ci siamo viste con la maria teresa che è una cara amica che abita a zeri e voleva imparare ad usare appunto i ferri circolari beh voi non ci crederete di ha preso in mano in cinque minuti e mezzo ha imparato addirittura la tecnica continentale quindi con il filo a sinistra quindi questo perché adesso mi stavo dimenticando ma vi volevo dire non è così difficile ragazze perché insomma adesso lei ha sempre lavorato come tutte quei ferri classici no ha provato mi ha detto guarda già che sei su mi fai vedere come funziona mi insegni io sono sempre disponibile mi piace anzi mi piace proprio ci siamo messe lì in un'oretta credo maria teresa dammi un feedback mi sembra un'oretta abbiamo chiacchierato mentre abbiamo chiacchierato lei ha provato appunto con la tecnica continentale ed è bravissima ha imparato subito perché non è difficile quindi se non lo avete ancora fatto provate i ferri circolari la tecnica continentale questo qui ad esempio che farò e lo farò i ferri sarà una stola quindi la stola è dritta per avvi motivi no non è circolare però la uso con la lavorerò con i ferri circolari perché io mi sono veramente stancata di avere i ferri sotto le ascelle avete visto che non me lo sono più tolto credo che oggi rimarrò così tutto il giorno quindi dicevo i ferri circolari sono di una comodità estrema quindi se non l'avete ancora fatto datemi retta provate iniziate e poi prendete quelli della tulip allora all'inizio va bene qualsiasi tipo di ferro circolare uno deve imparare quindi adesso non poi magari uno non piace ora non è detto no secondo me quando iniziate non li mollate più però quando poi avete preso un po di confidenza vedete che vi trovate bene passate in tulip come circolari perché come del resto gli uncinetti non hanno veramente rivali allora ragazze io vi ho detto tutto spero di avervi dato di nuovo qualche idea se avete domande dubbi curiosità scrivetemi io sono qui vi aggiorno sulle nappine così mi aiutate a scegliere quale nappina mettere direi che ci vediamo tranquillamente la prossima volta nel frattempo vedete che vi pubblico i lavori così nella community così vedete cosa sto facendo io questo qui lo adoro ragazze ma quanto è bello tra l'altro adesso è il periodo giusto perché non è caldo non è freddo questa è una cosa che no veste veste con una camicetta un jeans a posto va bene ragazze vi abbraccio vi bacio ci vediamo la prossima volta iscrivetevi al mio canale mi raccomando commentate chiedetemi qualsiasi cosa io sono qua mi piace chiacchierare con voi e vi rispondo volentieri ci vediamo la settimana prossima con altre novità spero nel frattempo di iniziare questa qui verde acqua così vi faccio vedere anche quella e ci riaggiorniamo ragazzi buona pasqua perché domenica è pasqua quindi buona pasqua a tutti passatela bene in serenità con la famiglia con i vostri cari e noi ci vediamo la settimana prossima ciao ragazzi è stato un piacere ciao ciao